Il campionato di eccellenza è vicino ad avere la sua regina, manca un punto all'oltrepo per conquistare la vittoria del campionato che verosimilmente arriverà sabato pomeriggio alle ore 18 nella sfida contro il Casteggio. La vittoria sul Meda firmata da Capitan Gabrielli avvicina definitivamente i biancorossi al traguardo finale in un girone che parla poco varesino dove solo la solbiatese resta viva in zona play-off. Battuta alla base 96 e quinto posto che resta più che mai possibile anche se i pensieri nerazzurri sono tutti per la finale di Coppa Italia che si giocherà a maggio. In coda invece punti importanti per la vergiatese e il verbano. Soprattutto la formazione del patron Pietro Barbarito supera la caronnese e sorpassa il Meda salendo al terz'ultimo posto e dimostrandosi viva per provare a prendersi i play-out. Non sarà stata la migliore annata possibile ma mai dare per vinto un vincente come Pietro Barbarito.